Abbiamo genitori, amici che possono volerci tanto bene, è stata la mia esperienza nella mia vita. Ma mi ricordo che essendo giovane studente, lì in Israele, mentre studiavo presso l'università ebraica, al solito andavo ogni venerdì all'uomo dove Gesù fu crocifisso, all'uomo dove Gesù ha risuscitato. E mi ricordo che sempre, le dicevo prima di venire e di tornare in Italia per continuare gli studi, nessuno mi ha amato come te, perciò non voglio amare nessuno come a te. Ecco, Cristo è il vostro amico migliore, perciò come diceva oggi il Padre nel Vangelo, questo è il mio figlio privilegio, ascoltatelo, ascoltate Cristo cari giovani, Lui insegnerà a voi la strada della pienezza.